E' importante vedere che questa giornata è condivisa con tutti e dico tutti perché la nostra Ampi ha messo proprio come logo nessuno escluso e questo è fondamentale per dare un senso vero al 25 aprile, nel quale un giorno in cui dobbiamo essere veramente tutti uniti e cominciamo proprio dedicando una preghiera a chi è caduto per la nostra libertà, per un paese diverso e un mondo diverso. Ecco qua il nostro sacerdote Don Gianni che ci darà una preghiera per la pace e la benedizione. Grazie. Signore Dio della pace, ascolta la nostra supplica. Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risolvere i nostri conflitti con le nostre forze e anche con le nostre armi. Tanti momenti di ostilità e di oscurità, tanto sangue versato, tante vite spezzate e tante speranze seppellite.